Buongiorno, eccomi qui, sono tornata. Buongiorno ragazzi e ragazze, bentornati o benvenuti sul canale. Ci siamo lasciati quasi tre settimane fa, che era novembre, e ci ritroviamo a luglio. Sono appena tornata da un giro di commissioni accaldata. Va un caldo pazzesco, ve l'avevo detto che mi sarei lamentata e così, ma va benissimo così. Quindi, dove sono stata in questo lungo tempo di assenza? Allora, mese di maggio, mese di chiusure, catechesi, festa di catechismo, festa dei ragazzi delle medie dove ho dovuto cucinare. Mi hanno chiesto se cucinavo per una raccolta fondi e sono stata contentissima. È stato un momento davvero bellissimo dove i nostri ragazzi della parrocchia della terza media si sono messi in gioco. Quelli che suonano lo strumento hanno fatto un piccolo concerto per noi che eravamo lì ad ascoltarli. Questa settimana sono impegnata, insieme ad altre amiche, per un altro pranzo. Un ragazzo della nostra parrocchia diventerà sacerdote, frate, e quindi sei sempre in balla. Il fatto di organizzare, trovare le persone che ti aiutano, andare a fare la spesa. Quindi mi vedete con una bella febbrazza sul labbro. Perché quando sono sotto stress è così. Con i capelli che devo ancora fare la tinta. Infatti sono cunciata des babbia, come mi ha detto la mia mamma 5 minuti fa. Ma fa niente, siamo tra amici, siamo tra vicini di casa. E oggi ho deciso di passare un po' di tempo con voi. Non so quanto perché ho fatto pulizia tra i prodotti beauty finiti. Ne ho una marea, sono circa due mesi che non giro questo video. Ma avevo proprio voglia di prendermi un momento di relax per liberarmi la mente, per rilassarmi. Perché poi sarà appunto un fine settimana abbastanza impegnativo. Molto bello, perché è sicuramente molto bello, ma impegnativo. Spero da settimana prossima di essere un po' più libera perché tutte le cose sono concluse. C'è forse qualcosina che sta ripartendo. Ma fino alla seconda settimana di luglio, dove andrò ancora a fare l'esperienza con alcuni amici come Cuoca del Campeggio. Ci sarò e quindi cercherò appunto di intensificare un po' i video. Ho tanti profumi da farvi vedere, ho alcuni prodotti che ho comprato, ho dei libri che ho finito di leggere e altri libri invece che ho preso da leggere. Quindi ci saranno tantissime cose, ma il tempo è quello che è. E sfugge, sfugge. Perché poi comunque mi devo ricordare che ho un lavoro, una famiglia, una casa e non sono in una stalla. Come dice sempre l'arinella. Va bene, non vi rubo altro tempo. Vi ringrazio per i commenti che mi avete lasciato nel post appunto in community dove vi avvisavo della mia assenza, ma anche di tante persone che mi hanno scritto sia su Instagram che per mail o anche su WhatsApp per chi è il mio contatto, chiedendomi appunto se andava tutto bene. Va veramente tutto bene, assolutamente non c'è nulla che non vada. È proprio soltanto una mancanza di tempo. In più poi ci sono alcuni controlli già programmati che mia mamma deve fare e quindi anche lì il tempo, insomma, va. Ma oggi ci prendiamo con calma. Quel che arriva, arriva. Un bel video dei prodotti finiti perché non ci stavano veramente, veramente più. Iniziamo. Sono sempre le solite cose, ma sapete che io non faccio una scernita. Vi faccio vedere molto velocemente quello che finisco. Ecco, ho finito questi dischetti di cotone della Sien che mi piacciono sempre tanto. Sono belli corposi, non si sfilacciano, ottimi. Poi ho fatto anche, ho incominciato a fare qualche maschera. Ho incominciato a fare qualche maschera perché nelle giornate un po' più caldine, alla sera, così, qualcuna. Non tantissime come nello scorso anno, ma adesso pian piano che arriverà il caldo, sicuramente ricomincerò. Allora, questa arriva da Primark, mi pare, ed è una maschera idratante alla rosa. È davvero molto, molto buona. Aveva un profumo di rosa meraviglioso. Era bella, ricca di siero. Mi è piaciuta tanto. Allora, alla sera, queste qui, proprio per rilassarsi, sono favolose. Ma poi mi sono fatta, anche prima che la febbre uscisse, una maschera labbra. Ne ho tante, ma non le faccio mai. E devo dire che quando le faccio, poi, il risultato si vede. Non ho mai avuto le labbra screpolate come in questi giorni. Cioè, manco d'inverno, manco con il freddo, manco con il vento. In questi giorni qua sarò perché sono stanca, non lo so. Questa, io non ricordo dove l'ho presa, probabilmente al Ticotà, ma non ne sono sicura. Skin Bliss, no, forse da Action, non lo so. Comunque, niente, aveva proprio la sua scatoletta che conteneva la maschera. Molto idratante, molto morbida. Mi è piaciuta davvero tantissimo. Suona il campanello. Chi sarà mai? Qualcuno andrà ad aprire? Vediamo. Ovviamente non apre nessuno. Era il Mauri che è andato a fare una passeggiata con Codi e le chiavi non le piglia nessuno. Nessuno. Non so se anche a casa vostra è così, ma tutti hanno il loro mazzo di chiavi e nessuno lo usa. Finito questo deodorante Neutro Roberts sensibile, avena e loto con puro olio di glicerina senza sali e alcol. 48 ore promette, 48 ore tiene. Sono davvero buonissimi. Ho visto che adesso mi pare la Neutro Roberts ha fatto dei deodoranti bellissimi con delle decorazioni tipo maioliche siciliane, una delle dolomiti, però costavano un fottio. 4,95 euro, quindi aspetto che, spero che arrivi in un sconto perché li vorrei proprio provare. Comunque sono davvero buonissimi. I miei preferiti ultimamente, oltre al DAV, sono Neutro Roberts e anche Nivea. Ottimi, ottimi, ottimi perché mantengono quello che promettono. Ah, ho qua anche un pacchetto. Cacciamoci dentro le cose, così non rimangono qui. Poi, ho finito questa lacca della balea che avevo comprato tempo fa, ne avevo prese tre. Mi sto trovando molto bene come livello di tenuta è il 4, il più alto è il 5 e devo dire che adesso che i capelli stanno diventando lunghi e ci sarà anche più caldo cercherò una lacca che ha una tenuta un po' più forte perché dopo il secondo giorno che ho lavato i capelli, i miei capelli, vum, sono dritti come pali, molto fini e quindi una volta che appunto passa un giorno devono avere un po' di volume. Buona, molto buona, costava davvero pochissimo e quindi sicuramente la ricomprerò ma con il livello di tenuta numero 5 che è il più grande. Poi, abbiamo finito l'agrumeto Biolis Nature Collection doccia e bagnoschiuma 98% di ingredienti naturali, noi questi li prendiamo sempre, sono molto buoni, un profumo molto fresco, molto estivo, molto energizzante, faccio anche fatica a dirlo. Ottimo, non sono più abituata a fare i video, faccio fatica anche a parlare. Poi, altra maschera, questa mi piace sempre tantissimo, sono davvero molto buone, le compro solo quando sono in offerta perché costano un pochino, della Cliniance Luxury Diamond Mask, era tutta dorata, argentata, con acido ialuronico, bellissima, polvere di diamante quindi era color argento. Bella, bella, molto buona, pelle molto rimpolpata, molto morbida, stupenda questa maschera, queste ve le consiglio tutte, sono davvero molto molto buone. Poi, ho finito i miei soliti bastoncini di cotone della Conad, che come sapete, se trovo nella confezione di cartone, la preferisco, ma li avevamo finiti e quindi una volata e siamo andati a prendere questi. Per quello a cui sono destinati, vanno benissimo. Poi, ho finito questa meraviglia della Yves Rocher, è lo shampoo colore, buonissimo, senza solfati. Devo dire che tra tutti gli shampoo che ho provato e che sto provando per la decolorazione, questo è un colore, lo vedete ce n'è ancora un goccio, è un colore trasparente, bianco, color latte. Tra tutti gli shampoo che io ho provato per la decolorazione, questo è quello che mi lascia i capelli color ghiaccio. È stupendo, buonissimo. Ne ho già comprato un altro, che ha cambiato il formato, ma non vi ho ancora fatto vedere l'ordine, immaginatevi voi, l'ho comprato forse un mese fa dalla mia amica Vale, però mi sto trovando benissimo e devo dire che probabilmente questo rimarrà comunque per me il numero uno. Buono, buono, buono. Ottimo. Capelli morbidi, capelli voluminosi, quasi più inspessiti e poi il colore che lascia fa andare via tutto il giallo e rimane un bianco, un biondo ghiaccio stupendo. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso sto usando anche il balsamo e la crema e devo dire che sono top, 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 top. Poi, quando abbiamo delle cose da finire che sono lì da 150 anni, li diamo al Paolo. E lui è molto bravo, quindi ha finito questo shampoo che non so da dove arrivi, alte verde, shampoo purificante antiforfora. Lui non si lamenta mai, anche perché ha i capelli, quelli che gli rimangono, alti 2 mm, quindi va sempre bene. Poi, ho finito questo gommage pour le corps, un gommage per il corpo di Organic Shop, mi piacciono sempre tanto, questo aveva un profumo, vediamo se lo sentiamo ancora perché poi l'ho sciacquato. Un profumo molto balsamico, da spa. Un profumo verde, buonissimo. Sembrava quasi di prendere del sale, ma con del miele, una crema non era oleoso. Buonissimo, veramente stupendo. A me questi di Organic Shop piacciono sempre tantissimo. E qui in 4-5 docci questo è andato. Però molto molto buono e li ricompro e li ricompro. Poi, ho finito questo deodorante che ho preso da Action, perdona, protezione 24 ore. Allora, vi devo dire che l'avevo pagato una stupidata. L'ho provato quando ancora non faceva caldo, molto caldo, e quindi la mia sudorazione era più abbondante. ma protegge, qui dice durata 24 ore, comunque fino alla sera mi protegge. Quindi, secondo me, può andar bene. Vi dirò se li ricomprerò, se funzionano anche quando fa veramente molto molto caldo. Però, devo dire che per il prezzo che hanno sono ottimi. Poi, ho fatto questa maschera dell'Edriadi, argilla rosa e pompelmo, maschera riequilibrante viso, sono buonissime per me. A parte il profumo di pompelmo, molto fresco, quindi ti dava proprio quella sensazione di essere rigenerata. Poi la si lascia in posa quei 5-10 minuti e la si risciacqua. È buonissima. Io l'ho fatta in 3 volte, perché è un 10 ml di prodotto e basta per almeno 3 volte, su di me 3 volte. Ottima. Poi, avevo comprato l'anno scorso un kit da viaggio di Codalie e c'era questa spuma Vino Clean Mousse Nettayage Nettayant Non taglio niente, perché tanto ormai chi vuole andarsene se ne va e chi vuole rimanere, rimane. Allora Io avevo comprato il kit di prova ed era anche mega scontato ma visto i prezzi che hanno questi prodotti per una spuma comunque lavante dopo la prima fase oleosa della skin care sì, ce ne sono anche che costano molto molto meno e fanno lo stesso lavoro quindi ok, l'ho usata, a me è piaciuta aveva proprio un profumo molto molto delicato però se dovessi comprarla in full size a prezzo pieno no, nel senso che per una schiuma che mi serve per lavare il viso no Poi altro pacchettino di dischetti Sien poi Dav mousse doccia idratante con olio di cotone queste sono sempre buone anche queste lo sapete quando le trovo in sconto io le prendo sempre la Lucia le mangia praticamente infatti dovevo andare al DM a fare rifornimento anche di schiume doccia che poi lei usa anche quando si depila sotto la doccia ma non sono ancora riuscita ad andare ma ci andremo comunque queste sono veramente veramente ottime poi questo è stato l'unico flop che c'è qui dentro penso no, forse c'è anche un trucco che flop Nivea Naturaligood 95% di ingredienti di origine naturale zero alluminio su di me questo non protegge niente è però ottimo nell'ambiente e quindi adesso ho finito questo che è una profumazione molto fresca e lo uso in bagno e sto usando l'altro che avevo comprato sempre come deodorante d'ambiente su di me come deodoranti corpo non funzionano una cippa quindi per me sono no poi abbiamo finito questo doccia schiuma al latte e al miele della balea ma che ve lo dico a fare questo è golosissimo buonissimo cremoso profuma di latte miele buono 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 ma su questo lo sappiamo e ho finito anche l'acqua spray per il viso sempre della balea ai frutti rossi questa mi piace tantissimo e devo andare a fare scorta anche di queste è buonissima e rinfrescante leggermente profumata ai frutti di bosco buona 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 golosa bellissima poi ho finito questa acqua micellare che avevo comprato su un notino sapete che quando voglio comprare delle acque micellare a basso prezzo che funzionino e avere così tipologie diverse di acqua micellare le prendo su un notino perché dal mio tigotà ci sono sempre le solite acque micellare a me piace cambiare devo dire che anche questa 99% di ingredienti naturali della lirene liren non so come si dica penso sia un'azienda polacca potrebbe essere cruenti fli 400 ml l'avevo pagata una sciocchezza penso inferiore ai 3 euro per 400 ml di prodotto buonissima 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 strucca io questo quando non ho voglia di fare il passaggio o le uso è vero alcune volte non lo faccio quando sono troppo stanca ha un profumo molto delicato non invasivo strucca tutto occhi viso e quant'altro mi piace e questi prodotti per me sono molto molto vari poi finito intimo fresco alla malva è molto buono di questi ne ho comprati parecchi ha un leggero sentore rinfrescante ma non troppo non irrita buonissimo Cosmos Organic ha il il certificato penso Icea ecco qui c'è scritto così questi li trovo da acqua e sapone e ne prendo le prendo sempre buonissimi poi finito questo toner idratante forse questo non ve l'avevo fatto vedere ma non mi ricordo più tra i ti ho provato e ti ho amato perché poi mi è scappato il mese un tonico spray molto non so come dire non un tonico liquido più corposo con l'aloe vera era idratante l'ho apprezzato tantissimo davvero molto molto buoni i prodotti di Nakomi mi piacciono sempre tanto ne ho ancora un bel po' in scorta quindi pian piano li vedrete però è un un tonico appunto all'aloe vera con la centella asiatica e il pantenolo ottimo davvero ottimo andiamo avanti abbiamo finito questa saponetta biolis nature alla ciliegia questa la usiamo per lavare le mani in bagno era ha un profumo di ciliegia buonissimo sono tra l'altro saponette molto molto grosse perché sono 200 grammi di sapone quindi ora che finiscono ci vuole un bel po' ma io quando quando vado e trovo qualche profumazione qualche gusti gusto diverso appunto li provo sempre perché mi piacciono questa era proprio sa proprio di ciliegia non una ciliegia fortissima anche perché poi essendo sapone dalle mani se ne va poi ho finito questo struccante di essence se non ricordo male era bifasico però non mi ricordo più perché è proprio finito tutto sì perché c'è dentro l'olio che toglie anche il il trucco waterproof era in sconto l'avevo pagato un euro e qualche cosa e devo dire che fa proprio bene il suo lavoro sono ritornata da Tigotà e vabbè dal mio Tigotà essence praticamente non esiste e sono poi ritornata anche da acqua e sapone ma non c'era più al momento quindi se lo ritrovo lo ricompro perché mi è piaciuto proprio tanto poi ho fatto questa maschera peeling esfoliante con estratto di pompelmo e papaya e limone allora io una volta a settimana faccio un peeling chimico e una volta a settimana faccio un peeling meccanico e devo dire che questa ha sostituito il peeling chimico mi è piaciuta molto e alla mattina comunque la pelle era molto più levigata molto più liscia più luminosa una buona maschera non ricordo tra le mie scorte dove io l'abbia presa e non vedo neanche la marca comunque è una maschera coreana potrebbe essere che l'ho presa da action potrebbe essere sì però ne ho talmente tante che chi è che si ricorda comunque ottimo per gli shampoo frequenti questo shampoo dell'angelica pappa reale e olio d'oliva capelli secchi e sfibrati ma lo usavo anch'io nel senso che i miei capelli anche se sono grassi però essendo decolorati sono ovviamente trattati sono sfibrati sono un po' impoveriti ecco e quindi quando faccio lo shampoo normale e non quello indicato per i capelli decolorati questo mi è piaciuto mi è piaciuto molto buono poi che abbiamo finito ancora abbiamo finito acqua idratante spray sempre per il viso argilla rosa pompelmo questa vale è lo stesso discorso della maschera che ho fatto l'altra volta è buonissima ha un profumo freschissimo vi dirò io la usavo principalmente alla mattina perché mi dava proprio quel colpo di tac energia per iniziare la giornata ottima buonissimo la ricomprerò sicuramente buona 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 tutti questi prodotti secondo me e soprattutto la linea dell'argilla rosa per chi ha una pelle mista grassa come la mia dell'edriadi io la consiglio è davvero buonissima poi ho fatto sempre dei campioncini dello stesso che questo dovrebbe essere il formato nuovo me li avevano regalati in omaggio e ripeto quello che ho detto prima sia la maschera che lo shampoo sono davvero ottimi e ve li consiglio se avete i capelli decolorati come i miei poi finita ecco anche questa qua non un flop ma vabbè finita questa acqua micellare ultra di la Roche-Posay questa mi era finita nel carrello perché avevo comprato il collare su una farmacia online una parafarmacia online il collare a Codi e per arrivare alle spese di spedizione gratuita avevo messo questa acqua micellare che se non ricordo male costava sui 5-6 euro che dire mi sembra che non abbia né arte né parte mi trovo molto meglio con quelle che costano 2 euro e che compro su un otchino e che sono quasi il doppio anzi non quasi ma sono sicuramente il doppio questa 200 ml l'avevo pagata sui 5 euro perché mi ricordo che mi mancava quella cifra per arrivare al carrello quell'altra 2 euro e 32 euro e 40 400 ml e mi piace molto di più quindi no non la ricomprerò no poi che abbiamo finito ancora questo mi è durato tantissimo un tonico esfoliante che usavo principalmente alla sera è stato uno dei miei primi acquisti online che ho fatto quando ho comprato su un sito spagnolo proprio all'inizio della mia passione per la skin care è un profumo meraviglioso e secondo me questo tonico è bellissimo è un profumo cocculoso di fiori di rosa bellissimo è un tonico esfoliante un'esfoliazione ovviamente chimica e illuminante e io lo usavo due o tre volte alla settimana non in combinazione però non in combinazione con l'esfoliazione chimica o meccanica che facevo nel senso che qua l'effetto esfoliante è molto molto delicato però questo è bellissimo di bella aurora tonico esfoliante e illuminante buono veramente buonissimo siamo quasi giunti alla fine ho usato questo gommage per il corpo di Yves Rocher che profumo ragazzi mamma mia anche questo qua in due doggio finito della linea aiga selvaggia e creste marine l'avevo già visto che cos'era che non mi ricordo più boh finocchio no mi ricordo più comunque questo qui buonissimo questa era una travel sights che mi avevano regalato con gli acquisti ma allora un peeling molto molto un gommage scusate non peeling un gommage molto 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 delicato quasi una crema che vi spalmate prima di risciacquare di uscire dalla doccia però davvero l'effetto era di pelle vellutata e poi profumata molto molto profumata bellissima questa linea bellissima e ho anche altri prodotti di questa linea ho uno shampoo che mi è piaciuto tantissimo ultra dolce shampoo ricostituente tesore di miele miele acacia e cera d'api della garnier ma quanto è buono questo shampoo ma lascia i capelli morbidi ma non si ungono comunque dopo averli lavati leggeri a parte il profumo mmm profumo proprio di miele capelli danneggiati buonissimo questo shampoo buonissimo 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 adesso ne ho tantissimi in scorta e usando poi comunque quelli combinati per la decolorazione chiaramente ne finisco molti di meno nel senso che rimangono nella doccia di più ma questo è buonissimo veramente buonissimo un capello bello nutrito bello vaporoso buono 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 finito questo deodorante della conad fresco note di lime e zenzero è uno dei miei preferiti e lo compro spesso anche questo come durata ottima senza alcol e se qualcuno magari nelle giornate calde non apprezza il profumo perché è se lo sente addosso perché gli dà fastidio questo tocco di zenzero e note di lime è davvero molto fresco e molto molto piacevole buonissimo davvero molto molto buono tutta questa linea è buona poi poi eccolo qua altro struccante per occhi delicati della sperate che non ci vedo Bielenda sapete che è una delle mie marche preferite ed è buonissimo strucca non irrita soprattutto dopo che ho avuto il problema all'occhio un prodotto ottimo ma tutti i prodotti di questa casa tutti 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 buonissimi almeno quelli che ho provato io per la skin care poi tra una cosa e quell'altra ovviamente mi è venuto anche il mal di schiena e quindi ho utilizzato questi cerotti erano due cerotti due pezzi che rilasciano calore e profumano di camfora proprio quel profumo di camfora quindi quando aprivate gli armadi della nonna ecco lei c'è però scaldano la parte dolorante e sembra che attimi un attimino il dolore li avevo presi forse da action anche questi o da action o dal penny market o forse ci sono in entrambi i posti comunque sono buoni 0,99 centesimi allora se l'ho segnato qua dietro è perché l'ho comprato da action 0,99 centesimi li ho finiti devo andare a ricomprarli perché poi l'età avanza e la Elena pensa di fare così un sacco di cose e poi la resta blucada siamo quasi agli sgoccioli ho finito questo siero di Giada Cosmetics ve l'avevo fatto vedere forse nei ti ho amato ti ho provato ti ho amato tutti questi sieri e questa linea mi piace tantissimo è un brand molto attento alla natura ecologico insomma un un buonissimo un buonissimo brand e questo era un siero con argan ibisco ginkgo biloba anti age anti rughe lo mettevo alla sera ma era comunque un siero non tanto corposo non era grasso quindi va benissimo secondo me messo anche alla mattina ma questo è il numero 5 buono 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 davvero poi ho finito questa essence water lo sapete che io amo particolarmente le essence nella skin care è un passaggio che non tralascio mai e questa era il ginseng e mi pare di avervela già recensita sempre nei ti ho provato ti ho amato quando voi mettete sul viso questa essence non è solo acqua ma c'è qualcosa di più e lo si sente lo si sente perché la pelle dopo averla tamponata rimane più liscia più idratata buonissimo questo è della del brand facciamo che lo guardate voi non so come si scriva e non lo vedo neanche perché ha beauty of joseon ecco qua ragazzi beauty of joseon buonissima l'avevo comprata su l'avevo comprata su stylevana adesso è un po' che non faccio più acquisti perché ho tante cose scorta poi mi piace comunque anche provare dei brand italiani ma devo dire che questi sono veramente ottimi al top un solo prodotto che la Lucy mi ha lasciato qua maschera capelli ricci nutriente e volumizzante ecco gli avevo comprati io sia lo spray per ricci ricostituente ricostruzione profonda e la crema anche questa è una linea che secondo me fa dei buoni prodotti a dei costi accessibili e per lei che si mangia tutti i prodotti per i capelli non usa nient'altro ma quelli sì devo dire che glieli compro spesso ho finito la mia Age Perfect Golden Age per la notte vedete è proprio finita non l'ho ancora pulita ma è finita finita una crema che mi è piaciuta tantissimo molto corposa molto nutriente la sentivo sulla pelle ma non come una sensazione di grasso ma sentivo che era una crema nutriente che c'era ottima mi è piaciuta davvero davvero tantissimo adesso ne sto finendo altre ne ho aperte altre alcune più leggere altri più nutrienti però poi con l'arrivo del caldo vedremo un po' come giustarsi visto la mia pelle un po' così e mi pare di essere arrivata a qualche esatto a qualche articolo di trucco e poi basta allora ho finito questo balsamo del per le labbra di Clio che si chiama ma io non ci vedo neanche più Coccolove sì Coccolove o Love Cocco che vedete è completamente finito ho cercato di scavare anche lo scavabile buonissimo 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 labbra idratate morbide e comunque non è che una volta svanito le labbra mi ritornavano secche come mi succede con altri burro cacao che sto eliminando perché non mi piacciono questo lasciava le labbra morbide nutrite per tante tante ore ed era quasi una cura io l'ho utilizzato soprattutto alla sera era quello che con il pH cambiava leggermente colore ma non aveva su di me un potere super colorante uno dei balsami per labbra più buoni che io abbia mai provato e poi ho finito ma completamente finito la mia la mia cipria che avevo comprato su Cosmify l'avevo comprato ormai 2-3 anni fa penso che sia stato il primo prodotto di make up non così non da da grande distribuzione che abbia comprato mi sono trovata benissimo una cipria molto leggera che non faceva le broghette la mettevo sull'intera faccia la mettevo sugli occhi per comunque fissare il make up l'avevo vista da Paola Gattaluna che è monoblu che è stata una delle prime youtubers che ho seguito insieme a Giulia Cova e devo dire che i suoi consigli sono sempre indovinati se non non vi dico neanche se non la seguite perché la conoscono ormai tutti però lei è davvero molto molto brava e questa l'avevo comprata proprio grazie a lei finita questa e ne ho messa in uso un'altra ho finito questa travel size perché era piccolina di metamorphose intense della Yves Rocher è uno dei è uno dei mascara che mi è piaciuto di più colore intenso durata pazzesca non non l'ho mai trovato sotto le occhiaie non mi è mai colato niente nonostante io non metta primer e nonostante questo non penso sia waterproof mascara volume ed è veramente una bomba ne ho un altro in scorta ma adesso ne ho altri che sto usando quindi non è che ne apro tantissimi devo invece buttare come avevo già buttato l'altra volta queste matite per occhi della pupa che avevo comprato al tigotà ma ragazze è nuova non scrive una città non nuovissima però secondo me gli scaffali del mio tigotà hanno prodotti che probabilmente la gente va apre si seccano e non vengono cambiati molto spesso non vengono sostituiti quindi questa non era scaduta ma non ha mai scritto e quindi io questa l'ho avuto mi spiace perché non costava neanche poco ecco io ho finito tutto adesso avrei dei profumi finiti da farvi vedere ma vi faccio un altro video e poi avrei appunto come vi ho detto prima altri video ma lascio passare questa settimana e l'inizio settimana prossima e poi speriamo di vederci presto so che sono stata lunga però avevo voglia così di chiacchierare un po' con voi spero di avervi dato qualche idea su prodotti che magari non conoscevate vi auguro un buon fine settimana il mio sarà sicuramente bello anche se faticoso e ci vediamo al prossimo video grazie anche per tutti i commenti non ho ancora risposto agli ultimi commenti perché appunto come vi dicevo non ho avuto tempo ma state pur sicuri che risponderò come ho sempre fatto grazie mille a presto e un bacione grazie mille